È stata presentata a Carrara l'iniziativa Fuori dal Comune, voluta dalla sindaca Serena Arrighi per ridurre la distanza tra Palazzo Civico e la città. Il primo appuntamento a calendario sarà mercoledì 15 marzo alle 17 alla ex scuola di Castelpoggio, quando la sindaca, insieme a una delegazione di assessori e consiglieri comunali, incontrerà gli abitanti del paese per confrontarsi sui loro problemi e sulle loro necessità. Gli incontri saranno programmati con cadenza fissa di due volte al mese fino a maggio, con assemblee aperte a tutti che avranno luogo a Marina di Carrara, a Venza, Fossone, Buonascola e nel Centro Storico. Questa iniziativa che si chiama Fuori dal Comune è un'iniziativa volta ad avvicinare l'amministrazione ai cittadini per cercare di essere presenti in maniera capillare sul territorio. Percorreremo quindi tutto il nostro territorio, frazioni e paesi a monte comprese. Cominceremo il 15 marzo a Castelpoggio, dove si terrà un'assemblea pubblica. A seguire saremo presenti il mercoledì successivo a Marina di Carrara, dove oltre a fare la medesima assemblea aperta a tutti, lavoreremo tutto il giorno in circoscrizione. Si tratta chiaramente di un atto simbolico, ma è un atto che vuole essere significativo rispetto alla nostra apertura e vicinanza nei confronti di tutti i cittadini di Carrara.